E se da una parte hanno preso il via le iniziative dedicate al 107esimo Giro d'Italia, dall'altra continuano i preparativi per la tappa Marte in Sicuro Fano. Ne parliamo con il responsabile organizzativo di questa tappa, Lighiero Micioli. Bentornato nei nostri studi. Grazie, buonasera a voi. I ciclisti arriveranno da San Costanzo sulla strada provinciale 16. Ricordiamo che giovedì le scuole nei comuni di Fano e di Mondolfo saranno chiuse, così come le vi interessate dal Giro. Tutto l'elenco lo troverete anche sul nostro sito occhialanotizia.it. O Micioli, in sintesi, quale sarà il percorso e per che ora è previsto l'arrivo a Fano? Allora, il percorso lo ripetiamo e come stavi dicendo poco fa, veniamo da San Costanzo e intercettiamo subito il comune di Fano all'altezza della realtà di Tombaccia, quella zona là. Poi entriamo nella zona dell'aeroporto, quindi fiancheggiamo tutto l'aeroporto, passiamo per la zona dei Tre Ponti, dopodiché prendiamo via Campanella e subito all'inizio di via Campanella giriamo a sinistra per la sedicesima strada che è una strada provinciale dentro un territorio comunale e da lì andiamo, quindi lo siamo già in località Bellocchi, da lì andiamo giù fino alla prima strada che la percorreremo fino in cima e usciremo all'altezza dell'extra da Statale Flaminia, per essere chiaro, alla zona dei campi da tennis, giusto per dare anche un'idea visiva del territorio. Lì prenderemo a sinistra in direzione Cucurano e da Cucurano poi saliremo quella che già quegli abitanti di Cucurano definiscono lo Zoncolano di Cucurano che si chiama via Patuccia. Questo chilometro e mezzo di salita che ci porterà poi in cima, praticamente fiancheggiando la realtà di tutta la zona di Montegiove per poi scendere all'altezza della lottatoria di Centinarola, dopodiché, la faccio un po' lunga, ma arriveremo all'altezza della COP, del seminario regionale e lì gireremo subito a sinistra per poi prendere la zona del Poderino, via l'Italia e il cimitero, la strada della Liscia, da lì subito a destra per incontromano andremo giù sotto il porto, il ponte del Cavalcavia che ci porta al porto, da lì saliremo via le cese dei Battisti quindi fiancheggeremo tutto il mare, la zona porto prima e il mare poi, via le Cesare e Battisti, risaliremo quindi da lì prenderemo le mura, atterremo tutte le mura a destra e l'arrivo sarà all'altezza di via le Gramsci diversamente dall'altra volta in maniera totalmente opposta, quindi molto vicino all'arco d'Augusto questo è l'orario provisto dalle medie intorno tra le 17 e le 17.30 Ah ecco, parlavo anche delle 16, 17.30 arriva le 16.30 invece ci sarà l'arrivo della carovana, quindi un altro evento dentro il giro ma quindi no, il giro arriverà tra quei minuti lì ecco Scatteranno logicamente i divieti di sosta, le strade verranno chiuse anche in diversi orari anche queste appunto le troverete sul nostro sito, ma a che ora riapriranno queste strade? Le strade vengono chiuse con la bandierina rossa di apertura della stradale verranno riaperte con la bandierina verde appunto di un motociclista della stradale con molta gradualità e con molto parsimonio, con molta cautela nel momento in cui ecco poi c'è una certa distanza dall'ultima ammiraglia, dall'ultimo mezzo del giro per far sì ecco che poi piano piano si torni in maniera molto graduale alla normalità Leggero alcune domande dei nostri telespettatori logicamente appunto verranno chiuse diverse ore prima rispetto al passaggio ma in queste ore precedenti all'arrivo della carovana rosa le persone potranno attraversare la strada a piedi o in bicicletta? Ma assolutamente sì, io dico sempre il buonsenso e la discrezionalità sono quelle che vincono su tutto, ci mancherebbe è precluso l'uso delle auto durante la chiusura ovviamente del percorso ma la bici a piedi si può fare tranquillamente, spostarsi tranquillamente da una parte all'altra del percorso Quanti saranno i varchi chiusi e quante le auto che eventualmente dovranno essere liberate i posti auto? I varchi chiusi sono 180 per la precisione quelli che interessano appunto il comune di Fano quindi già abbiamo un'idea di quanta mole di cose ci siano da dover gestire le persone che sono state coinvolte tra polizia municipale e protezione civile sono circa 130-140 ai quali poi andrà la sicurezza con i carabinieri della polizia che hanno un altro servizio, un altro ruolo le auto che andremo a rimuovere sin dal mercoledì antecedente alla gara perché come sapete tutta la zona d'arrivo quindi via le Gramsci, via le Palazzi, via le Buossi e anche altri parcheggi penso all'ex casermo, al foro Boario dalla sera antecedente la partenza quindi dal mercoledì sera dovranno essere liberati sono circa 2000 i posti auto che dovremo in qualche modo liberare per dare appunto ospitalità a quelli del giro Siete a lavoro da mesi per organizzare questa tappa forse da un anno che è la dodicesima del Giro d'Italia una curiosità qual è stata la cosa più difficile da organizzare? Ma la cosa più difficile non c'è una cosa particolarmente difficile che sono tante cose dentro l'evento Giro il Giro sono tante realtà che viaggiano unisono che viaggiano in maniera quasi cronometrica l'una con l'altra dove tutto è molto didascalico dove tutto è molto preciso perché ecco essendo una dimensione molto vasta non si possono permettere delle distrazioni e quindi far conciliare le esigenze dell'organizzazione locale che giustamente ha le sue esigenze con quelle che invece sono le peculiarità e le esigenze del Giro in tutto questo è anche il mio ruolo però ecco devo dire che la risposta di Fano dell'amministrazione, di tutta la cittadinanza e del Comune intero è stata e spero, sono certo che sarà assolutamente ad altissimo livello Lei con chi si deve relazionare? Ci sono altri referenti per i vari settori? Guardi, ieri mi ha fatto molto piacere ieri la domenica ho avuto una telefonata del direttore del Giro di Mauro Vegni che mi ha chiamato mentre stava andando in quel di Napoli perché appunto ieri il Giro è arrivato a Napoli e abbiamo parlato circa un quarto d'ora mi ha chiesto un po' di cose con noi tra noi c'è un rapporto diciamo di amicizia molto consolidato e quindi io mi rapporto in questo caso ieri questa telefonata ecco è stata una telefonata extra solitamente mi rapporto con i vari responsabili dei vari settori nel senso che Fano avrà delle cose l'amministrazione, il Comune ha chiesto di fare alcuni eventi all'interno dell'evento Giro ecco per ognuno di questi eventi ci sono dei vari responsabili con cui devi interloquire anche quello dell'arrivo mi spiegava anche quello dell'arrivo l'intenzione dell'amministrazione è quella di dare anche visibilità a tutto quello che sono le cose più belle della città di Fano dal carnevale alla pandolfaccia ad altre realtà storiche della città lì faremo una sorta di sfilata ma tutto questo va inserito in un contesto diciamo quasi cronometrico dal momento in cui si parte al momento in cui si arriva e quindi il mio ruolo è proprio far conciliare anche tutto questo i ciclisti stanno affrontando le 21 tappe lungo l'ossivale italiano chi è il favorito per la maglia rosa? dire chi è il favorito è una cosa quasi scontata lo si sapeva già tra virgolette prima che iniziasse il giro adesso lo è ancora di più che è questo corridore che è straordinariamente bello anche da vedere perché anche nella tappa di ieri quella di Napoli addirittura si è prestato a fare, a tirare la volata al suo compagno di squadra cioè quando normalmente i leader della classifica stanno coperti per non rischiare lui è l'esatto opposto di tutto questo per cui al di là che io gli auguro sia scontato che vinca il giro però è piacevole veramente da vedere quindi ci riporta un po' ad anni passati in cui c'erano altri campioni di questo valore di questa dimensione possiamo dire che a prescindere da chi vincerà anche la tappa a Fano sarà comunque una bellissima vetrina per il nostro territorio ma assolutamente sì io penso che adesso non è il giro è l'evento giro perché ripeto all'interno del giro ci sono quattro eventi cioè c'è il giro Mediolanum composto da tutti gli ex campioni del ciclismo italiano quindi che partirà da Mondolfo poi a seguire ci sarà il giro E con personaggi del mondo dello spettacolo industriale che appunto fanno proprio una gara all'interno del giro che partirà in questo caso da Senigallia arriveranno sempre a Fano poi ci sarà la carovana e poi alla fine chiuderà tutta questa mole di eventi il giro d'Italia di conseguenza che dire io penso che più di così e tutto questo va in diretta dalla mattina mi sembra alle 10-10 e mezzo parte la diretta integrale in diversi canali televisivi che non sono solo quella da Rai ma anche di altre televisioni private penso che godere di tutta questa visibilità sia veramente una cosa unica buon lavoro a lei e tutte le persone che dovranno lavorare per questa giornata grazie mille grazie dell'invito